Non so se posso dire di conoscere veramente Fanny, sebbene ora la veda molto spesso. Prima che il nostro incontro assumesse un carattere professionale, o se preferite, prima che io cominciassi ad occuparmi del suo caso, ci eravamo incrociate solo tre volte. E così rapidamente, che solo più tardi ho saputo il suo nome. La prima volta è salita di sorpresa nella mia macchina mettendomi un coltello alla gola. Ci ha preso tutto quello che avevamo. Ero in compagnia di un amico medico. La seconda volta fu il giorno seguente. La riconobbi subito. Confesso che il mio primo istinto fu quello di chiamare la polizia e di denunciarla, ma non lo feci. Aspettai che avesse finito di telefonare. Poi mi avvicinai. Dissi chi ero. Le diedi il mio biglietto da visita con indirizzo e numero di telefono. E le dissi di mettersi in contatto con me per motivi professionali. Cosa che non fece mai. La terza volta vidi la sua foto sui giornali. Era stata coinvolta in una storia tragica ed incomprensibile. C'erano stati dei morti. Mi interessai a lei. Cercai in ogni modo di capire cosa si celasse dietro quello che gli specialisti definiscono i fatti. Grazie a tutti.